Musica Eccoci qua, allora parliamo di musica come vi dicevo con Alessandro Spampinato che è qui incanto a me e che ringrazio per essere ancora nostro ospite, buongiorno e bentornato. Buongiorno e grazie a te, grazie a tutti quanti. Allora, ci eravamo lasciati qualche tempo fa con questo disco, il primo disco che era uscito già da tempo con collaborazioni anche abbastanza importanti, abbiamo parlato a lungo di quello che era questo disco, molto intimista se così si può dire e adesso però c'è questa nuova creatura che è appena uscita praticamente, è appena stata partorita, volevo usare un termine e quindi di che si tratta invece in questo caso? La creatura è nata, è nata, è nata l'altro ieri e presto a giorni sarà disponibile anche sul web e come dicevamo l'altra volta, riprendendo un po' il discorso, questo secondo lavoro racconta sempre di aspetti che riguardano la vita di tutti quanti noi, la canzone d'autore racconta delle storie naturalmente, però con una chiave di lettura differente dal primo lavoro, con questo secondo CD descrivo più i tempi nostri da un punto di vista più sociale, più aperto a tutti e al momento che stiamo vivendo noi italiani, noi cittadini di questo mondo, perché non dobbiamo guardare solo a noi stessi. L'arte infatti in tutte le sue espressioni ha anche come scopo quello di descrivere i tempi che viviamo, sia da un punto di vista di denuncia, qualche canzone diciamo abbastanza esplicita sulle cose che non vanno e ci fanno un po' soffrire, ma anche di descrizione, semplice descrizione di questi nostri tempi, che sono tempi che insomma chiunque può confermarlo, sono tempi molto difficili di cambiamenti, di trasformazione. E ce lo dica, noi lo raccontiamo tutti i giorni. Ecco, appunto, assolutamente sì. Ecco, questo secondo lavoro che se permetti io te l'ho portato bene. Grazie davvero, ve lo faccio vedere, non so se c'è la possibilità di farlo vedere più da vicino, insomma, poi vi dico pure i titoli che io li leggo da dietro, appunto, li leggo per la prima volta adesso, eccolo qua. Allora, questo è il nuovo disco di Alessandro Spampinato che si intitola L'amore è un artista cieco, ammazza, ma adesso ce lo spieghi per questo titolo, dove ci sono canzoni che si intitolano In questo paese, cosa c'è di più sbagliato, i professionisti del vestito del cowboy, mi ritrovo punto a capo, messaggio alla luna e se ti capita non dirmi che ho sbagliato, le otto tracce che troviamo appunto in questo disco. L'amore è un artista cieco, il titolo mi intriga, che significa? Mi fa piacere che intriga. Allora, il titolo è appunto, diciamo che l'amore è un artista, lo spiegherei in questo modo, perché l'artista, l'arte in generale, diciamo, ha come caratteristica quella di rompere gli schemi, di sconvolgere, sorprendere, riorganizzare il conosciuto sotto altre forme e altri aspetti. E in questo senso l'amore è un artista, quando l'amore arriva e coglie la nostra vita è tutto, si ridefinisce, gli elementi entrano in conflitto e fa nuove un po' tutte le cose. E in questo senso l'amore crea. Naturalmente l'amore non inteso in senso banale, cioè l'amore è inteso come quell'aspetto intelligente della vita, perché l'amore è vita. E soprattutto l'amore è intelligente, è intelligente, conosce, sa tutto, sa cosa è giusto fare. Allora, in questo senso l'amore è un artista. Poi cieco, perché? Beh, sia perché, io almeno alla mia osservazione, poi ognuno vede quello che vuole, questo mondo avrebbe secondo me bisogno di più amore. E l'amore non è che manca in questo mondo, solo che sembra come Cupido che aveva una pessima mira, sembra colpire persone semplici, persone normali, persone che hanno un'influenza nella vita sociale minima. Non è che colpisce i grandi capi di Stato, i grandi economisti che potrebbero fare la differenza. Anzi, sembra che queste persone, con tutto il rispetto possibile, insomma, però sono più attenti agli aspetti tecnici, ai numeri, alle dimensioni economiche nel senso scientifico del termine. Quindi la scienza senza intelligenza, la scienza senza amore, senza comprensione del perché esiste l'economia. Lo scopo della vita non è fare soldi o salvare le banche, forse lo scopo della vita è rendere felici le persone, la felicità. E allora forse l'economia serve all'uomo per essere felice, non come sembra attualmente che l'uomo vive per salvare l'economia, vive per l'economia. Si sono come un po' ribaltati i valori. E come dire, insomma, non bisogna vivere per lavorare, ma lavorare per vivere. Esatto, esatto. E proprio questo è il principio. Invece sembra che qui oggi si lavora 14 ore al giorno per portare avanti la baracca, per pagare. Laddove forse, ecco, un po' più di amore nel lavoro, nella famiglia, nei rapporti sociali, nella politica, potrebbe fare la differenza, cioè riportare le cose al soggetto della storia. Il soggetto della storia è l'uomo, non è di certo l'euro o il dollaro. L'euro e il dollaro dovrebbero servire all'uomo per realizzarsi, per essere felice lui. Invece qua sembra che stiamo tutti cercando di vivere per far felice l'economia. Ecco, e in questo senso c'è, ecco, perché colpisce i semplici. Magari Cupido riuscisse a prendere la mira giusta a un cambio di Stato. Ok, e poi c'è, ecco, anche perché l'amore sembra, questa intelligenza, sembra colpire le persone semplici perché forse le persone semplici lo sanno accogliere meglio. Perché appunto avendo questo difetto l'amore, che ci vede poco, ha bisogno di persone sensibili, come se dovesse prenderlo per mano, aiutarlo a attraversare la strada. L'amore va accolto perché è delicato. E allora, come dico nella seconda canzone, cosa c'è di più sbagliato? Quando c'è invece arroganza, quando c'è potere, espressione di potere, quando c'è violenza, l'amore fa ciao ciao. E se ne va. Se ne va. Senta, vedo che anche questa volta, insomma, ci sono collaborazioni, insomma, di un certo livello. Cominciate appunto agli arrangiamenti alle chitarre con Massimiliano Rosati. Sì. Poi il resto glielo faccio dire a lei. Va bene. Allora, di questo sono veramente orgoglioso che le mie canzoni in questo CD sono state arrangiate, ma anche suonate da Massimiliano Rosati e altri che adesso dico. Perché Massimiliano Rosati è un musicista incredibile che abbiamo tutti quanti la fortuna di averlo qui. È un nostro concittadino. Massimiliano Rosati ha in questo CD, secondo me, dato il meglio. Perché a me, insomma, chiaramente piace, però si sente proprio la mano dell'artista e anche del professionista che lavora in questo CD. E poi hanno collaborato anche Duccio Todeschini al basso elettrico, che è un personaggio molto schivo, non vuole che si parli molto di lui, è l'alter ego di Massimiliano Rosati, diciamo così, al pianoforte Fravio Mazzocchi, che è un pianista, è un artista assolutamente di livello incredibile, e alla batteria Luca Trolli, che ringrazio perché dà la giusta spinta a tutto il CD. Leggo anche che è stato registrato presso gli stessi studio di Massimiliano Rosati, da R&B Recording. Dove stanno? A Civitavecchio? A Roma? A Civitavecchio. Ripeto, noi siamo fortunati perché questa città, che ha tutti questi problemi che hai appena detto nella tua rubrica prima, però ha delle risorse incredibili a livello quantomeno umano. Cioè, qui a Civitavecchia ci sono, dal punto di vista musicale, degli artisti eccezionali di livello. Sì, gli studi sono qui a Civitavecchia. No, perché siccome si discute molto sempre di questa cosa, molti che ad esempio non hanno la possibilità di andare appunto a pagare uno studio per poter registrare dei dischi, in realtà lamentano l'assenza di questi strumenti, diciamo come appunto può essere uno studio di registrazione per poter proporre poi la propria musica. Da questo punto di vista forse si potrebbe fare anche un po' di più, no? Sì, io penso che è proprio questo l'aspetto da mettere in rilievo. Cioè, che si dà tanta importanza alle cose che non vanno, ai problemi economici, che sicuramente sono gravi, vanno affrontati, però andrebbero affrontati in modo più artistico, meno tecnico. Cioè, l'Italia da almeno da vent'anni, ma forse un po' di più, insomma noi della nostra età lo sappiamo bene, in Italia si sono alternati governi tecnici, commissioni di baroni, mega professionisti, ma come stiamo messi? Cioè, questi professionisti, ma allora forse... Non erano così tanto professionisti, forse più dilettanti, bisognerebbe dire. Non lo so, forse non lo so, però forse oltre alla tecnica ci vorrebbe forse anche un po' più di arte, di inventiva, cioè cambiare mentalità. Noi stiamo come assistendo a un mondo che vuole gestire le cose nuove con le macchine vecchie. Il mondo sta cambiando, ci sono problemi pazzeschi su tutti i piani, in tutti i campi e continuano con gli stessi metodi tecnici, professionali, cioè aumentiamo le tasse, tagliamo qui. Forse ci vorrebbe più arte, più creatività nell'affrontare il mondo che cambia e le esigenze delle persone. E allora tutta questa invece enfasi ai disastri, ai problemi, mettono in ombra invece le risorse. Come dicevi, giustamente a Civita Vecchia c'è un sacco di gente brava che fa bene il suo mestiere, anche a livello musicale, che è quello di cui stiamo parlando oggi. A Civita Vecchia c'è Massimiliano Rosati con il suo studio di registrazione. Non è l'unico studio di registrazione, perché ci sono anche altri senza togliere nulla agli altri. Però Massimiliano Rosati è un nome importante, ha uno studio assolutamente all'avanguardia, che può fare la differenza dal punto di vista culturale e artistico di questa città. Però si sa poco, allora io ne approfitto per dire, Civita Vecchia ha delle risorse in tutti i campi, anche in quello culturale e artistico. Lo inviteremo allora, anche Massimiliano Rosati, così magari riusciamo a dare questa spinta per far crescere l'arte nella nostra città. Sì, perché per cambiare la mentalità non ci vogliono i numeri, i tagli o le tasse, ci vuole cultura, ci vuole persone che si appassionano alla creatività, al rivedere le cose che non vanno da un punto di vista diverso. Secondo me andrebbe coinvolta di più le risorse della gente e lasciarvi un po' più a casa i tecnici, i burocrati, quelli che contano i numeri, dare più spazio alle risorse che ci sono, ci sono, ci sono e sono tante, solo che spesso rimangono inespresse, nascoste, le persone non sanno che ci sono delle potenzialità e le potenzialità sono umane, sono nelle persone, non sono nei manuali o nei numeri o nelle cifre e forse dando più spazio alla creatività, all'intelligenza umana, quei numeri forse un giorno vanno a posto. Se invece si continua a fare solo le addizioni e le sottrazioni, la matematica è fredda, serve, però è fredda, l'artista sa rivedere gli elementi. Sa colorarla. Sa colorarla. Allora, con noi sfondo è una porta aperta, perché noi come emittente diamo molto spazio alla cultura, devo dire, quindi essi ne siamo ovviamente molto, molto contenti, perché effettivamente la pensiamo esattamente così, insomma c'è bisogno di colorare anche un po'. Sì. Grazie ad Alessandro Spampinato per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi, grazie. Ci vediamo al prossimo disco. Beh, forse speriamo prima, insomma. Ok, ok.